Ed eccoci ancora in diretta con gli Alna Radici sui 99.8 di Radio Yes, l'Italia ancora una volta in ginocchio a causa del maltempo, sono successi veramente dei disastri idrogeologici pazzeschi ancora una volta, speriamo che si riuscirà a superare questo momento e soprattutto a fare qualcosa di concreto per il nostro territorio. Ma veniamo a noi parlando di territorio, questo è il periodo di castagne e le castagne si raccolgono proprio in questo periodo, adesso si possono mangiare, se ne trovano di buonissime, ma quali sono le proprietà delle castagne? Ve le siete mai chieste? Sono molto buone anche perché si possono preparare in tantissimi modi diversi, sicuramente forse uno dei modi più buoni, che ci piace di più è quello delle caldarroste, le famose castagne arrosto, sono veramente gustose. Le castagne sono composte per metà da acqua e l'altra metà da carboidrati, che voi sapete benissimo ormai che sono gli zuccheri, poi ci sono un po' di proteine, grassi, le fibre e le ceneri. Ci sono anche alcuni minerali molto importanti, tra cui il calcio, il fosforo, il magnesio, il ferro, il potassio, lo zinco, il rame e il manganese. Per quanto riguarda le vitamine, quella che troviamo maggiormente è la vitamina A, seguita poi dalla B1, la B2, la B3, tutto il gruppo B, senza fare un lungo elenco, ma anche la vitamina C e la vitamina D. E' importante sapere una cosa che forse non tutti non sanno, parlando appunto dei benefici, delle proprietà curative delle castagne, e che le possono consumare, possono essere consumate anche dalle persone cediache, che soffrono appunto del morbo celiaco. Questo perché? Perché non contengono glutine, quindi ricordate questa cosa importantissima perché può diventare un'alternativa anche alla solita alimentazione, almeno in questo periodo. E poi tra l'altro le castagne sono molto digeribili e sono infatti consigliate nei periodi di anemia, di inappetenza, quindi si possono proporre anche in modi diversi, anche sotto forma di dolci, si possono fare tante preparazioni diverse ai bambini che sono inappetenti. E poi grazie appunto alla presenza della fibra, un'abbondante presenza di fibre, aiutano chiaramente la funzionalità del nostro intestino. E poi grazie anche alla presenza dell'acido folico è consigliata, pensate, anche alle donne in gravidanza, pensate un po' a quante proprietà hanno queste belle castagne. Poi sono ricche di minerali e quindi ci aiutano anche per chi appunto è un po' astenico, soffre di questa stanchezza cronica. In questo periodo fare ad esempio uno spuntino, se vi capita di acquistarle al mercato o al supermercato, le potete arrostire, ve le potete portare dietro 4-5. Perché? Perché poi bisogna fare anche i conti però con l'apporto calorico. Chiaramente non bisogna mai esagerare di niente. Quindi anche per quanto riguarda le castagne potrebbero essere un buon snack, una buona merenda, anche da far portare ai vostri figli a scuola. 4-5 castagne arrosto. Perché no? Sono buonissime, è un'alternativa alla solita merenda, ricca di minerali e ricca di fibre, quindi sicuramente è un alimento salutare. Contiene, come dicevamo, anche tanta vitamina B e fosforo e quindi contribuiscono al mantenimento del nostro equilibrio nervoso. Siamo giunti veramente al termine del nostro appuntamento con la salute. Oggi è lunedì, il tempo non promette niente di buono, a quanto pare tra un po' ripioverà, speriamo di no. Speriamo che se piove, piova soltanto per 5 minuti e poi esca il sole per asciugare tutti i danni che sono stati fatti, soprattutto ieri, dal tempaccio che è arrivato non soltanto su Roma. Io vi auguro un buon inizio di settimana, mi raccomando sempre in nostra compagnia e compagnia dei 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma. A domani. Medicina, salute e benessere è stato offerto da 2F2000SRL.